Eccoci qua. Allora, trascorso il tempo di essiccazione e di asciugatura del nostro foglio, procediamo con la scrittura del nostro testo. Allora, bisogna preparare il foglio e poggiarlo su una base. Il foglio di carta 4 è troppo piccolo, quindi utilizzeremo un foglio A3. Attacchiamo con due pezzetti di nastro carta questo foglio di carta preparato prima su un foglio di carta A3 e nei margini laterali di sinistra segniamo dei piccoli tratti che saranno poi le nostre linee guida. Da lì poco a poco iniziamo a scrivere e procediamo scendendo il nastro carta al secondo o terzo livello delle nostre tacchette. Conviene per accertarsi di non sbagliare di scrivere prima matita in modo che se sbagliamo cancelliamo e poi dopo.